Cicchi è tornato in ufficio e chi invece ha deciso di partire adesso per godersi anche una maggiore tranquillità. È il caso del Cilento dove le prenotazioni e anche le presenze per il mese di settembre sono incoraggianti per gli operatori balneari. Della verità ancora c'è una buona affluenza di gente, quest'anno in complessivo sembra che sia andata tutto bene, c'è stata molta affluenza. Anche se si pensava, visto un po' la crisi generale sia di guerra, dopo Covid, così si pensava che costi aumenti, si pensava che ci fosse una crisi un po' più, invece sembra che l'estate sia andata bene. Visto dalle prenotazioni stiamo messi abbastanza bene, quindi penso che sia anche un settembre buono, però dipende sempre dalle questioni meteorologiche. Rispetto agli altri anni prenotazioni sicuramente più lunghe, noi abbiamo ad oggi prenotazioni fino al 10-15 settembre, poi il weekend comunque abbiamo sempre lavorato e si spera che continui l'estate per tutto il mese. Nemmeno i vari rincari hanno di fatto fermato la voglia di mare e di relax. Ma assolutamente no, magari consumano un pochino di meno, però nessuno rinuncia alle vacanze dopo quello che abbiamo passato gli anni precedenti. Le temperature elevate e il mare cristallino hanno spinto in tanti a optare per questo periodo dell'anno. Il periodo migliore, anche i primi di settembre, giugno, sono i periodi meno gettonati e quindi siamo un po' più relax.